Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del Tg6, lutto nel mondo della politica pescarese che piange la scomparsa dell'ex sindaco Carlo Pace, morto la notte scorsa in ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente in via Silvio Pellico investito da un'auto nella giornata di ieri. Il cordoglio unanime da parte del mondo politico, a partire dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha scritto la scomparsa di Carlo Pace, mi addolora profondamente, ho sempre avuto con lui un rapporto sincero e collaborativo, i suoi esperti suggerimenti non mancavano mai in tema di infrastrutture, soprattutto se si parlava del porto di Pescara e dell'aeroporto d'Abruzzo. Questo quanto scritto in una nota dal presidente D'Alfonso, tra i tanti ricordi di Carlo Pace c'è quello di Carlo Masci, assessore per nove anni nelle due giunte Pace. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Pescara piange l'ex sindaco Carlo Pace, 81 anni compiuti ad ottobre, che ha governato il capoluogo adriatico ininterrottamente dal 1994 al 2003, nel primo caso dopo essersi imposto su Mario Collevecchio e poi nel secondo caso dopo aver avuto la meglio su Gianni Melilla. è stato anche coordinatore della commissione sismica mista della regione Marche-CNR e componente del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila. Per quanto riguarda la politica è stata forte in passato, ma sempre leale la sua rivalità con Nino Sospiri, all'epoca presidente del Consiglio Comunale. Nell'ultimo periodo e nell'ultima campagna elettorale ha appoggiato la candidatura a sindaco di Guerino Testa. Carlo Masci, un ricordo dell'ex sindaco Carlo Pace, lei è stato assessore nelle due giunte dell'ex sindaco di Pescara, un po' il suo braccio destro possiamo dire. Sono sconvolto, la notizia è tragica perché oltre a essere stato assessore con lui per nove anni siamo stati legatissimi, lo considero un padre politico, un maestro di vita e un carissimo amico. Ieri ho saputo la notizia dell'incidente, ho chiamato la famiglia, mi avevano anche tranquillizzato, nel senso che mi avevano detto che c'erano problemi, l'incidente era stato grave ma lui non correva pericoli e quindi mi ero anche tranquillizzato. Stamattina invece ho avuto questa notizia incredibile, non ci posso ancora credere, è veramente un dramma. Pescara è stato un grandissimo sindaco, un sindaco che ha amato la sua città, un grande innovatore, con lui è cresciuta una classe politica nuova, è stato onesto, ha proprio incarnato l'onestà e la serietà nella politica. Pescara perde una persona di grandissimo livello, di grande spessore, è un uomo che sarà ricordato da tutti per la sua serietà e la sua correttezza. Un uomo politico molto considerato, apprezzato anche dal centro-sinistra, questo non accade sempre? Assolutamente sì, perché è stata una persona onesta, non è mai stato un politico nel vero senso del termine, della parola, è stata una persona che si è messa a disposizione della collettività e lo ha fatto in una maniera bellissima. Pescara con lui è rinata, ha avuto un grande sviluppo, tante novità, lui amava le novità, era una persona apertissima. Con lui ho ricordi incredibili, momenti bellissimi di vita che rimarranno scolpiti nella mia mente, una grande perdita per la città anche come esempio di vita. Ed ora ci occupiamo di terremoto. Credo che il messaggio fondamentale è che la situazione vada accudita e curata continuamente. Stiamo mettendo la macchina della ricostruzione in campo e gradualmente stiamo uscendo dalla fase più acuta dell'emergenza. Lo faremo anche dal punto di vista della maggiore responsabilizzazione delle realtà locali. Così il premier Paolo Gentiloni al termine dell'incontro con i presidenti delle regioni colpite dal terremoto che ribadisce l'impegno continuo anche del governo che nella giornata odierna ha moltiplicato e rilanciato con risorse più che adeguate lo sforzo per la ricostruzione risorse che ha continuato Gentiloni. Nel decreto che verrà così messo a punto a metà aprile verranno inserite in un fondo per la ricostruzione che sarà molto rilevante oltre un miliardo all'anno per i prossimi tre anni per le aree colpite dal sisma. Ma ci sono anche critiche al decreto terremoto e arrivano dal centrodestra che denuncia troppe ombre. Almeno questo è quanto sostiene il parlamentare azzurro Fabrizio Di Stefano illustrando anche le proposte del centrodestra abruzzese. Abbiamo visto due decreti diversi noi e il presidente D'Alfonso. Già quando uscì dal governo D'Alfonso si dichiarò estremamente soddisfatto perché tutto ciò che aveva chiesto era stato recepito. Poi il decreto è arrivato in commissione e quindi in aula e in commissione è stato inserito il cratere che non c'era anche se non ci è soddisfatto per come è stato fatto. È stata inserita l'equiparazione sul nostro emendamento dei danni da maltempo nel cratere equiparati ai danni del terremoto, in particolare al mondo Lefrane, anche se è rimasto fuori escluso tutto quello che è fuori cratere. È stato inserito il danno indiretto, anche se con solo 22 milioni di euro per quattro regioni mi sembra davvero poco. Tutto il danno meteorologico non trova risposta. Se oggi i sindaci di Teramo, Ascoli, Macerata e Spoleto, quindi di centrodestra e di centrosinistra dicono che i comuni sono stati lasciati abbandonati e che rischiano il dissesto evidentemente dentro questo decreto non c'è nulla per le amministrazioni locali. Se il cratere è stato ampliato ma sono rimasti fuori comuni come Penne, come Catignano, come Penna Sant'Andrea, come Basciano, significa che qualcosa non è andato bene. Se si è avuto almeno la deroga al ridimensionamento dell'ospedale di Popoli, anche se sottoposto al tavolo di monitoraggio, quindi ancora con un grande punto interrogativo e viceversa, per Penne non si è fatto nulla, si vede che qualcosa non è andato bene. Francamente un decreto che non ci piace. Sono stati prorogati al 10 di aprile i termini per la presentazione delle domande di sostegno alle stalle colpite dal sisma per la perdita di reddito degli allevatori provocati dai decessi e dal crollo della produzione di latte del 30% per lo stress e per il freddo, ma anche per la perdita di mercato causata dallo spopolamento. Questo è quanto rende noto la Col di Retti nel sottolineare che le misure straordinarie sono fissate in 400 euro a Capo Bovino, 60 euro a Capo Ovi Caprino e 20 euro per ciascun suino e in più 45 euro per le scrofe e 100 euro ad Equino. Ed ora invece ci occupiamo della politica terramana. Quarto rimpasto di giunta per il sindaco Maurizio Brucchi. Entra nel governo della città Alfonso Di Sabatino Martina che si occuperà della ricostruzione e che per mesi aveva criticato e chiesto le dimissioni del primo cittadino. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Quarto rimpasto della giunta Brucchi. Ormai è cosa fatta, o quasi, all'istruzione entra Caterina Provvisiero in sostituzione dell'assessore dimissionario Francesca Lucantoni e poi la grande novità. Anche il riottoso Alfonso Di Sabatino Martina entrerà nell'esecutivo con delega alla ricostruzione. Dopo mesi di critiche feroci all'amministrazione Brucchi, Di Sabatino cambia idea ma lo fa per una causa nobile, quella di dare il proprio contributo a ricostruire una terramo a pezzi dopo il terremoto. Il terremoto ha fatto cambiare idea a Dodo Di Sabatino che entra così in giunta? Eh sì, evidentemente detta così è singolare ma anche restituisce bene quello che è accaduto. Gli eventi sismici di questo periodo e le complessità che hanno comportato hanno ovviamente obbligato la nostra ritrosia a mutare idee, ci hanno obbligato a assumere una scelta diversa che sia una scelta di responsabilità, una scelta difficile che ha ovviamente come tutte le scelte difficili delle grandi complessità ma che sentiamo di assumere per un grande senso di responsabilità e per il fatto che riteniamo di giocare o meglio che quando la lotta si complichi è giusto che anche le persone che hanno un minimo ancora da dare scendano in campo. Quindi una delega alla ricostruzione? Dovrebbe essere questa, almeno a quello che leggo anche dalle vostre indiscrezioni. Sicuramente sarà, immagino che sia una delega di questo tenore, complessa, difficile da gestire con una serie di questioni che ovviamente non vi sfuggono, attengono sia alla pianificazione strategica, anche alle scelte importanti da compiere sulle scuole, sulla città, sul patrimonio pubblico, su operazioni di investimento privato, sull'attrazione di capitali, è ovviamente una delega che presuppone un impegno full time, che presuppone un atteggiamento di grande disponibilità, non è la delega del sottoscritto, questa è la delega della città, questo ci tengo a dirlo perché su questa cosa dobbiamo lavorare tutti e mi auguro che anche questa disponibilità venga raccolta anche dall'opposizione perché, ripeto, questa città deve rialzarsi, lo deve fare nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile, lo deve fare con la schiena dritta, con grande dignità. Il consumo in calo in Abruzzo, al dirlo, è un'indagine del Cresa che spiega però che una lieve ripresa è già in atto. Vediamo. Oggi c'è questo convegno a Chieti, a cura del Cresa, per parlare delle famiglie abruzzesi, di come vivono oggi le famiglie abruzzesi e soprattutto dei loro consumi. Qual è la situazione e cosa è emerso da questa indagine? I nostri dati si riferiscono alla precedente rilevazione di 5 anni fa in questi 5 anni i consumi di abruzzesi sono diminuiti di oltre il 10%, una quota che è decisamente importante, però rappresenta la crisi che stiamo vivendo, una crisi che colpisce tutte le famiglie e che ha portato ad una diminuzione tra l'altro di consumi in maniera ovviamente anche articolata, nel senso che il consumo alimentare rimane sostanzialmente stabile. Cosa estremamente interessante, rimane stabile il consumo di istruzione, quindi c'è una volontà di futuro perché si investe sull'istruzione sui giovani, scende il consumo dell'elettronica e bene il consumo in termini più generali. Una discesa significativamente inferiore a quella nazionale, quindi diciamo una regione in crisi e questo purtroppo ne fa la fotografia. Noi con i dati congiunturali abbiamo verificato che negli ultimi trimestri c'è stata una crescita della produzione di valore del prodotto interno del prodotto regionale, è una crescita, è un'uscita della crisi che è ancora a macchia di leopardo, nel senso che sono uscite la crisi delle grandi imprese, una parte il mondo delle piccole imprese, in difficoltà sono le medie imprese, il mondo dell'edilizia non riesce a riprendersi nonostante la ricostruzione aquilana. Ed ora la cronaca, due anni dall'apertura dell'inchiesta sul fallimento di Soggesa e a quasi un anno dall'archiviazione per gli ex presidenti Cirsu, Luciano D'Amico e Lunella Cercuoni, la procura firma l'avviso di conclusione delle indagini contestando l'accusa di bancarotta ad otto persone. Fraudolenta patrimoniale per i tre componenti dell'allora CDA di Cirsu e Soggesa, Angelo Di Matteo, Diego De Carolis e Andrea Ziruolo e i due consulenti Meri Pistillo e Lorenzo Gianmattei. È preferenziale nei confronti dell'ex presidente del CDA di Soggesa, Gabriele Di Pietro, dell'ex amministratore delegato Giovanni Marchetti e dell'allora presidente delle CDA e amministratore delegato della Deco Paolo Tracanna. Secondo l'accusa, dopo l'acquisizione da parte di Cirsu anche delle quote di AIA in Soggesa a fine 2011, con la società diventata interamente pubblica e con i due CDA coincidenti, i vertici del Cirsu avrebbero occultato la maggior parte dei 3 milioni dei crediti vantati da Soggesa nei confronti del consorzio. Andiamo avanti con il giornale. La ASL di Teramo e la casa circondariale di Castronio hanno firmato un accordo per disciplinare le procedure di prevenzione dei suicidi in carcere. Vediamo. Dal 2012 ad oggi, all'interno del carcere di Castronio a Teramo, si sono verificati cinque casi di suicidio e diversi tentati suicidi, questi ultimi fortunatamente sventati dalle guardie penitenziarie. È importante dunque fare prevenzione e così il direttore della casa circondariale, Stefano Liberatore, e il direttore dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano, hanno siglato un piano comune operativo per il pronto intervento e la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti. Come si fa in un carcere a prevenire il suicidio? Questa è una domanda molto difficile. Come si fa? Si fa attraverso strategie di comportamento partecipato, attraverso una cooperazione tra tutti gli operatori penitenziari, istituzionali, paraistituzionali, che insieme con tutte le loro forze trovano gli accorgimenti necessari per cercare di contenere, forse la parola giusta è contenere, questo disagio che purtroppo esiste e esisterà sempre. Uno dei punti salienti dell'accordo firmato tra ASL di Teramo e casa circondariale di Castronio è quello della creazione di uno staff multidisciplinare in grado di prendersi cura dei soggetti che manifestano intenti autolesionistici e l'ASL infatti che gestisce il presidio sanitario del carcere Teramano attraverso una specifica unità operativa diretta da Massimo Forlini. Questo protocollo, diciamo solo l'ultimo atto, già nel passato c'è stata tanta attenzione ovviamente su questo argomento, anche perché in carcere gli atti di autolesionismo che spesso sono non l'espressione di una malattia psichiatrica o di un disagio vero e proprio, ma qualche volta, anzi spesso direi sono legati alla ricerca dell'attenzione da parte dell'ambiente ovviamente dove si trovano, perché spesso il detenuto ovviamente si sente abbandonato, spesso lo è dalla famiglia, quindi cerca una maggiore attenzione attraverso questi gesti. Adesso delle decisioni verranno prese coralmente attraverso questo staff multidisciplinare che si ordinà periodicamente in base all'osservazione che viene costantemente effettuata sui vari detenuti. Adesso torniamo a Pescara. Il consigliere comunale della lista Teodoro Massimiliano Pignoli ha illustrato questa mattina i motivi che lo hanno spinto a scrivere una lettera al prefetto e al presidente della TUA affinché vengano posti in atto i provvedimenti adeguati dopo l'ultima aggressione avvenuta sabato scorso su un autobus urbano. Consigliere Pignoli, dopo gli ultimi episodi di violenza accaduti su alcuni mezzi pubblici della TUA, lei ha scritto una lettera al prefetto di Pescara chiedendo di prendere provvedimenti e soprattutto di tutelare maggiormente la sicurezza del personale che lavora sui pullman. Sì, ha detto bene lei, non solo al prefetto, ho scritto a questore, ho scritto al comandante della polizia municipale, ho scritto al sindaco, ho scritto anche al presidente della commissione che dirige l'ordine di sicurezza che è il dottor Pier Nicola Teodoro affinché si individi un tavolo per eliminare questo problema. Ormai è un problema annoso. Persone anziane, bambini, genitori sono intimoriti di prendere il pullman. Questo non è possibile, è una città bella, è una città democratica, è una città splendente come la città di Pescara. Dobbiamo risolvere assolutamente questo problema, individuare attraverso un bando, attraverso una concertazione privata, poi vedranno loro quale modus operandi è meglio nei limiti e nel rispetto della legge, associazioni di volontariato che abbiano protezione civile, che possano mettere degli uomini, ovviamente gratuitamente a costo zero per la TUA, per l'amministrazione comunale e quant'altro, che facciano da deterrente per questi soggetti che nonostante non pagano il biglietto causano anche danni e disagi alle altre persone che legittimamente stanno prendendo il pullman. Mi riferisco ovviamente alle tratte quelle più importanti. Mi aspetto nei prossimi giorni una risposta in tal senso e mi aspetto anche una soluzione immediata per questo problema che è diventato un problema non importante, ma per la gente che frequenta quel pullman, che frequentano quelle linee, determinante. A San Giovanni Teatino il Movimento 5 Stelle con il consigliere comunale Mario Cutrupi questa mattina ha chiesto chiarezza sulla gestione dei campi da tennis della Cittadella dello Sport. Consigliere Cutrupi, oggi si parla del circolo tennis qui della Cittadella dello Sport di San Giovanni Teatino. Voi nel comunicato avete scritto che il circolo tennis di San Giovanni Teatino è malato. Perché? Qual è il problema? Il circolo tennis è malato anche essendo una bellissima struttura fatta da 10 campi da tennis, non riesce a mantenersi ed è malato della stessa malattia che fino ad agosto dell'anno scorso era malata la piscina comunale. Adesso la piscina comunale, avendo tolto i privati e gestendola in prima persona come società pubblica, la piscina comunale è rinsalita, sta completamente bene, vive da sola e non pesa sui soldi dei cittadini. Potremmo utilizzare lo stesso metodo per il circolo tennis, dovremmo utilizzare lo stesso metodo. È un obbligo verso il sindaco, verso l'amministrazione che aumenta le tasse ai cittadini perché deve pagarne i servizi e non risolve problematiche così che andrebbero a incidere meno sulle tasse dei cittadini. Ma nel concreto qual è il problema dei campi da tennis qui della Cittadella dello Sport? L'associazione del tennis non pagava da un sacco di tempo neanche quelle piccole cifre che avrebbe dovuto pagare. Quindi come facevamo a fare la manutenzione? Come facevano a fare la manutenzione? Ed ecco che un circolo del genere decade, invece un circolo del genere deve diventare un altro gioiello per tutti i cittadini di San Giovanni Tiatino. E per farlo è semplice, abbiamo già la soluzione. Non c'è da inventarsi niente. La stessa società può gestire sia la piscina che il tennis. Semplice. Ed ora siamo al calcio, in particolare iniziamo dalla Serie A e dal Pescara. Biglietti esauriti e grande attesa per la partita di domenica prossima all'Adriatico-Cornacchia tra Milan e Pescara. Sarà il momento del ritorno d'avversario dell'ex bomber Gianluca Lapadula, mentre Zema non è ancora sicuro di avere a disposizione Stendardo e Caprari. Il servizio è di Andrea Costantini. Nonostante il Pescara abbia più di un piede e mezzo in Serie B e alta in città, l'attesa per il match di domenica prossima contro il Milan, la prova si è avuta ieri quando la dotazione di biglietti è stata polverizzata in cinque ore tra acquisti online e nelle ricevitorie e la società costretta a rimandare al mittente alcune delle richieste provenienti da club del centro-sud Italia. Dunque oltre 20.000 persone saranno presenti, tra le altre cose, al ritorno in riva all'Adriatico di mister 30 gol Gianluca Lapadula, l'uomo che nell'Abruzzo ha trovato la sua fortuna ma che a sua volta ha fatto le fortune di squadre abruzzesi, prima da protagonista nella promozione in B del Teramo, poi negata dalla giustizia sportiva, quindi da assoluto re dei bomber della cadetteria con le 30 prodezze che hanno portato il Delfino in Serie A passando per i play-off. La Padula all'Abruzzo è profondamente legato, tanto da tornare appena può a salutare amici ed ex compagni di squadra, ma domenica da avversario cercherà il gol per aiutare il Milan nella rincorsa all'Europa, sempre che Montella gliene dia l'opportunità, cosa non accaduta all'andata quando uno dei migliori pescara di Massimo Oddo fu superato solo dalla punizione beffa di Buonaventura, ma l'attaccante torinese rimase in panchina per tutti i 90 minuti. Con Deolofeo e Ocampo sesterni il ballottaggio sarà con Bacca, Montella dovrà valutare se il colombiano di ritorno dalla nazionale sarà subito pronto per partire dal primo minuto, altrimenti spazio alle grande ex. In casa pescara invece Zeman attende le prossime sedute di allenamento per capire se Guglielmo Stendardo e Gianluca Caprari potranno essere della partita. Sarebbero recuperi importanti anche perché in difesa Coda e K.O. e Campagnaro non è ancora al 100% e non ha mai giocato nell'anno nuovo. In attacco Caprari resta l'attaccante di migliore caratura e per lui, di proprietà dell'Inter, questo rappresenterebbe un assaggio di derby. Sul loro impiego qualcosa in più si capirà dopo domani quando la squadra disputerà l'amichevole contro l'Avezzano al Dei Marsi. Sarà anche l'opportunità di capire se Zeman vorrà lanciare dal primo minuto Koulibaly o se invece riproporrà il centrocampo classico della sua gestione con Bruno Metodista e Verre e Memuschai di ritorno dalle nazionali quali mezziali. In Lega Pro si anticipa al sabato alle 18.30 la partita del Teramo reduce dal pareggio esterno contro il Mantua. La sfida del Bonolis contro la San Benedettese si preannuncia calda anche dal punto di vista ambientale con oltre 500 tifosi ospiti al seguito della squadra di Sanderra. Il servizio è di Jacopo Forcella. San Benedettese e Ancona in quattro giorni diranno se il Teramo convalescente è davvero guarito. Tra sabato pomeriggio e mercoledì sera il diavolo avrà una doppia opportunità di rinsaldare una posizione disperata, sì, ma che dopo i quattro punti con Gubbio e Mantua sembra perlomeno essere più solida rispetto ad un paio di settimane fa. Perché il modulo sembra dare risposte confortanti? Le prestazioni dei singoli, al di là dei limiti, anche. E allora quale migliore partita dal punto di vista soprattutto ambientale per cercare di ricucire il rapporto con una piazza delusa dai troppi bassi di una stagione da dimenticare? La sfida con il rosso-blu di Sanderra in un Bonolis che si preannuncia caldo rappresenta uno stimolo per la classifica e un tentativo di riscatto dell'andata nella quale il Teramo, come spesso gli è capitato, rimase negli spogliatoi cadendo sotto i colpi del promesso sposo del Pescara, Leonardo Mancuso. Ugo Lotti spera di riavere quanto prima Mirko Petrella per avere la possibilità di cambiare pedine in corso d'opera. L'esterno d'attacco dopo i problemi alla schiena a Mantua ha dovuto alzare bandiera bianca per colpa del polpaccio. La salvezza diretta è lontana, ad oggi solamente quattro lunghezze, anche se in teoria per via degli scontri diretti proprio col Mantua sarebbero cinque. Ed ecco perché occhio agli incastri, soprattutto alla gara del Tuglio-Saleri dove il Lumezzane sfida l'Ancona e la partita del Mancini tra Fano e Mantua. Sfide però che si giocheranno conoscendo già il risultato di Teramo-San Benedettese con in campo gli ex Luli e Bernardo sul fronte rosso-blu e con almeno 500 tifosi al seguito. Dall'altra parte una squadra in ripresa e con la voglia di evitare un fastidioso, quanto molto pericoloso, pesce d'aprile. Ed ora invece siamo al rugby, coccente sconfitta per l'Aquila che è stata superata domenica scorsa al fattori dai Toscani del Medicei. Il risultato finale 29 a 33, il servizio di Niuscia Rioci. Nella sesta giornata di pool promozione l'Aquila Rugby Club viene sconfitta 29 a 33 dai Toscani Medicei. Una sconfitta che brucia in quanto le due squadre sono sembrate decisamente equilibrate e in alcuni momenti i nero-verdi sono riusciti a sfoggiare un gioco brillante e aggressivo con le mette a cavallo del primo e del secondo tempo schiacciate dal numero 8, Carlo Cerasoli decretato proprio per la spettacolarità delle sue azioni, man of the match. Gli ospiti, dal canto loro, hanno potuto contare sulla precisione al piede dell'apertura gallese Dan Newton che è senza ombra di dubbio il giocatore di spicco della squadra toscana con 7 calci su 7 messi tra i pali. I nero-verdi scesi in campo con la nuova maglia Vieni in Abruzzo la forza di una terra, volta proprio a promuovere una regione duramente colpita dagli eventi catastrofici degli ultimi mesi, si aggiudicano in ogni caso il bonus offensivo avendo schiacciato 4 mete, una in più degli avversari e quello difensivo. Carlo Cerasoli abbiamo visto un'ottima prestazione da parte tua due splendide mete a cavallo dei due tempi in cui vi siete trovati peraltro in superiorità numerica cosa è andato storto dal drop calciato da Newton quando voi eravate in vantaggio? Io credo che oggi la partita è stata condizionata dai piccoli errori che abbiamo fatto loro sono stati bravissimi ad approfittarne ecco qui il risultato che alla fine il gap sono i piccoli errori che abbiamo fatto quindi dobbiamo essere sicuramente più concentrati e andare avanti non ho niente da dire nel senso perché non siamo assolutamente inferiori a questa squadra loro sono stati bravi ad approfittare alcuni errori nostri però siamo stati bravissimi tutti quanti abbiamo lottato e io credo sia una sconfitta immeritata però lo sport è anche questo però degli errori ci possono stare non c'è da recriminare né con l'arbitro spero che i nostri ragazzi prendano ancora più fiducia comunque dell'ottima prestazione E' tutto per la seconda edizione del TG6 il prossimo appuntamento è alle 23 grazie per essere stati con noi buona serata